La conoscete la storia della più grande truffa finanziaria di tutti i tempi? L'americano Bernie Madoff, protagonista di una delle frodi finanziarie più grandi di tutti i tempi, è stato condannato qualche anno fa a 150 anni di carcere. L'ex bagnino, diventato broker, ha bruciato 50 miliardi di dollari. Ai suoi clienti dava rendimenti medi del 10% all'anno, tutti gli anni indipendentemente dalle condizioni del mercato. Ma come ci è riuscito? Si è capito poi che utilizzava i soldi dei nuovi clienti per pagare gli interessi a coloro che erano già dentro l'affare. Per anni Bernie aveva spiegato ai suoi investitori, comprese i banche di tutto il mondo, che il suo segreto era comprare titoli e vendere opzioni come solo lui sapeva fare. E tutti hanno voluto crederci, comprese le autorità di controllo, visto che Madoff appariva un benefattore ed era stato anche presidente del Nasdaq, il listino dei titoli tecnologici statunitensi. E anche in Italia abbiamo avuto Gianfranco Lande, il Madoff dei Parioli, condannato a nove anni di reclusione per una truffa da 300 milioni di euro, perpetrata ai danni di VIP e professionisti della capitale. Come gli adescava? Il mago della finanza prometteva rendimenti da capogiro. Con questa promessa ha ingannato 1680 clienti, professionisti, gente di spettacolo, nobili e anche malavitosi. Tra le vittime anche l'attrice Sabina Guzzanti, che interrogata dai giudici del Tribunale di Roma, ha fatto il mea culpa. La cosa più difficile da digerire? Mi sono ritrovata a fare la figura dell'imbecille. Gli avevo messo in mano i risparmi di 25 anni di lavoro. Nella truffa del Madoff dei Parioli, così veniva chiamato, è finito anche l'ex della Guzzanti, l'artista Davide Riondino, che aveva affidato a Lande 450 mila euro tra il 1999 e il 2006, divenuti secondo il broker 1.350.000 euro nel 2009. Ovviamente l'attore questi soldi, così incrementati di valore dal sedicente mago della finanza, non li ha mai più rivisti. Ai giudici Riondino ha raccontato che Lande, il truffatore, gli fu presentato come il grande esperto finanziario. Sembrava molto rassicurante. Parlava di astrologia finanziaria, dicendo che c'era un nesso tra la crisi economica e gli astri. Parlava di guadagni annui fino al 17%, roba da fare invidia anche a paperon de paperoni. Cosa possiamo imparare da queste truffe finanziarie? Da che mondo è mondo la caratteristica che accomuna molte delle truffe o promesse eccessivamente finanziarie che si sono succedute in questi secoli è una sola. Vendere ai risparmiatori il sogno di aver trovato il modo sicuro e facile per far fruttare quattrini, ovvero alti guadagni senza correre nessun rischio, in qualsiasi modo va dal mercato. Come constata tristemente Simone Mariotti nel libro L'investitore libero, ricostruendo le maggiori truffe finanziarie del secolo, la speranza di poter moltiplicare il proprio denaro con pochi rischi e poco sforzo è proprio dura a morire. E ancora oggi, variante più intriganti ed evolute degli schemi ponzi, i sistemi di vendita multilevel sono più vivi che mai. I truffati nel caso del Madoff dei Parioli erano uomini di chiesa, nobildonne, attori, giornalisti, politici e anche uomini della malavita. La sete di avidità e l'attrazione ai facili guadagni non ha sesso, età o stato sociale. Le vittime predestinate dai truffatori, che puntano ai guadagni da leccarsi baffi, ovvero sulla carta alti, sicuri e costanti, sono pronte a buttarsi nelle braccia dell'imbroglione di turno scambiandolo per l'uomo della provvidenza e pagheranno questa infatuazione con uno stato permanente di prigionia, perché i risparmi una volta bruciati non tornano più. Sui soldi e sugli investimenti bisognerebbe essere un po' meno sprovveduti, per non essere sempre dei perdienti e riscattare il nostro stato di creduloni che vendono la loro libertà finanziaria per un pezzo di pane e scegliere nella gestione del nostro denaro di affidarci a qualcuno che parla alla nostra testa e non alla nostra pancia. Meglio affidarsi a chi non vende sogni e non crede ai miracoli, che offre strategie per investire in borsa nella buona e nella cattiva sorte e soprattutto che non ci tratta da primati, facendo leva sui nostri istinti più bassi, come cerchiamo di fare come consulenti finanziari indipendenti con i nostri clienti. Il nostro obiettivo? Cercare di aiutare i risparmiatori a gestire i loro patrimoni con consapevolezza, con metodo e rigore, fatica e sudore. Esiste una via per l'elevazione e passa sempre per la testa. Si chiama conoscenza ed è la parte più nobile che ci distingue dai primati, quella a cui come consulenti finanziari indipendenti ci rivolgiamo, a chi vuole ascoltarci. Ti è piaciuto questo video? Abbiamo scritto un ebook che approfondisce questi temi e tu puoi averlo gratuitamente. Visita il sito ebook.soldiexpert.com o clicca sul link in descrizione per scaricarlo. A presto!